Rigida, ne ha facoltà, prego. Ministro Lamorgese, forse alcuni colleghi non hanno capito perché noi abbiamo chiesto di averla qui oggi. Noi abbiamo chiesto di averla qui oggi perché lei si è vantata di aver schierato 70.000 agenti di polizia per impedire agli italiani di festeggiare con i loro parenti Pasqua e Natale e non è stata in grado di impedire un evento criminale come quello che è avvenuto a Valentano. Noi ci aspettavamo, Ministro, un atteggiamento diverso, meno omissivo, meno tendente a scaricare le responsabilità sugli agenti, sui prefetti, sul questore, un'assunzione piena di responsabilità da parte sua dei fatti che sono accaduti tra il 13 e il 19 di agosto di quest'anno in estate. E c'è un'altra ragione, Ministro, perché lei è qui a spiegare in diretta televisiva su richiesta di Fratelli d'Italia le ragioni per le quali ha permesso si svolgesse quell'evento. Perché in quelle ore lei controllava che non venissero aperti locali da ballo in tutta Italia, che nei locali non si potesse accennare un passo di danza, perché quelli che avessero compiuto un tale reato sarebbero stati multati e il locale chiuso. Nella località di Valentano, nel Viterbese, difficile da raggiungersi, poche strade d'accesso, il 13 di agosto vanno a montare delle strutture in una proprietà privata del signor Piero Camilli, una persona che lavora, un riferimento della sua comunità, una persona che ha una famiglia, che ha dei beni, che avrebbe voluto il Ministero degli Interni difendesse il suo diritto al lavoro e il suo diritto a vivere sereno, così come i cittadini della comunità di Valentano. Bene, Ministro, lei dice che lo ha fatto, che sono arrivati 50 camper e i poliziotti li hanno fermati e non si sono accorti che quelli che fermavano non erano criminali, cioè gente che andava a compiere dei crimini. E quali sono i crimini che lei ha depotenziato a fenomeni accessori, 30 mila euro di danni? Intanto le segnalo che 900 agenti di polizia schierati hanno un costo, intanto le segnalo che l'assistenza complice che avete fornito a quei delinquenti ha un costo, intanto le segnalo che la musica emessa dai sette palchi montati, otto mila persone, quelle contenute in una curva da stadio, lei dice che mica ti puoi accorgere che otto mila persone si riuniscono insieme. E se fossero stati terroristi sarebbe stata la stessa cosa, Ministro Lamorgese, ce lo spieghi se lei pensa davvero di potersi convincere che l'Italia è una nazione insicura per l'incapacità dei nostri servizi, dei nostri poliziotti, dei nostri carabinieri. No, a loro va la nostra solidarietà, perché sarebbe bastato un suo input per sgombrare quella gente, arrestare i criminali che hanno organizzato quell'evento. Lei ha dato indicazioni in senso contrario. E sono accaduti incidenti lì dentro, non lo so se lei configura incidente la morte di un ragazzo di 25 anni, non so se lei configura come incidente la presunta violenza carnale che prima sottolineava pare sia avvenuta in quei giorni. Non so se lei considera reato lo spaccio di droghe come la chetamina e l'LSD che venivano distribuite in banchetti nel quale c'era il cartello. 5 euro la chetamina, 10 le LSD. E pare addirittura che ci fosse, lo smentisca, un laboratorio con personale specializzato nel descrivere la qualità delle droghe che venivano assunte. E allora lei dice che l'area è stata pulita. In realtà no, nemmeno quello è avvenuto con la puntualità che lei ha citato, perché le scritte sui muri della proprietà privata del signor Piero Camilli stanno lì. Le violazioni dei suoi mezzi di produzione, i trattori distrutti, così come forse lei ha poca attenzione agli animali, forse ne abbiamo un po' di più. Lo sa l'inquinamento acustico di casse da rave sugli animali da produzione, che cosa produce? Ministro Lamorgese, la prego di ascoltare, almeno abbia la compiacenza di fare questo. Lì ci sono 1.600 mucche che producono latte. Da quel giorno la diminuzione del latte di quelle mucche è diminuita, perché gli animali sottoposti a uno stress di questa natura ovviamente ricevono un danno. E allora lo dico anche agli amici che si configurano come animalisti. Come può accadere all'interno di questa nazione che da tutta Europa arrivino 8-10.000 criminali, perché di questo si tratta, e agire impunemente violando la proprietà privata, saccheggiando, spacciando e compiendo ogni tipo di atto di questa natura? Indisturbati, ministro, indisturbati, perché lei non ha fatto intervenire le forze dell'ordine, non ha fatto intervenire i carabinieri, non ha fatto intervenire gli agenti e non si tratta di legge e ordine che peraltro sarebbero normali in una nazione in cui gli italiani vengono sottoposti alla verifica dei Green Pass. Questi che erano a Reivi, i Green Pass ce l'avevano, ministro Lamorgese? Ce lo racconti? Lei dice che sono stati segnalati. Addirittura gli avete sequestrato le casse e poi sono state restituite. Questi hanno portato chili di droga all'interno di quel luogo e hanno passato giorni a far questo. Ma, ministro Lamorgese, oggi è anche un segnale della continuità della sua incapacità in efficienza in quel ruolo. Sarà stato pure un buon prefetto, non lo so, certamente un pessimo ministro. Un ministro che ha fatto moltiplicare, lo dico agli amici del Movimento 5 Stelle. Noi votammo durante il governo gialloverde, il decreto Salvini, l'abbiamo provato anche a difendere quando è stato discusso in quest'Aula, perché limitava l'immigrazione clandestina. A nostro avviso non risolveva del tutto il problema. Ma da quando è arrivata lei si è triplicata nel 2020 la flusso di gente che arriva in Italia in maniera illegale. Quest'anno arriveremo a 68 mila persone che arrivano illegalmente. Vede, ministro, il somalo che descriveva prima è una persona che è arrivata illegalmente. A Rimini, pieno di droga, ha accoltellato quattro donne e un bambino. Un bambino figlio di immigrati regolari. Immigrati regolari che non chiedono gli ussoli, ma chiedono come i cittadini italiani la sicurezza. Ministro Lamorgese, lei qui in quest'Aula avrebbe dovuto, vado a concludere, Presidente, arrivare a scusarsi con Piero Camilli, la sua famiglia, chiedere anche a lei, le è arrivata la lettera il 24 agosto, del proprietario di quei luoghi e non ha avuto la dignità di rispondergli. Pagargli i danni che lui ha detto devolverà, devolverà ad associazioni di volontariato ambientalista e di lotta alla droga proprio perché è una persona che rappresenta una istituzione. Lei avrebbe dovuto chiedere scusa agli imprenditori, alle forze dell'ordine. Lei qui dentro avrebbe dovuto chiedere scusa all'intera nazione perché controlla i cittadini onesti e l'Italia è diventata il ricettacolo della disonestà presente in tutto il mondo. Allora, Ministro Lamorgese, chiudo davvero. Oggi in diretta televisiva, grazie a Fratelli d'Italia, lei ha dimostrato quello che vale come Ministro e questa maggioranza si è dimostrata com'è divisa su questi temi. Noi e gli amici della Lega abbiamo una posizione univoca su questo. Gli amici di Forza Italia hanno sottolineato quanto sia impensabile che l'illegalità diventi di normalità. E allora, Ministro Lamorgese, prenda atto del suo fallimento e si dimetta. Chiesto di intervenire il deputato di...